Anche Napoli ospiterà, come altri dieci capoluoghi italiani, l'iniziativa religiosa 10 piazze per 10 comandamenti, organizzata dal Movimento Ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Il 15 settembre, in Piazza del Plebiscito, si discuterà sul precetto Onora il Padre e la Madre, presenti fra gli altri il segretario della CISL Raffaele Bonanni e il direttore di Famiglia Cristiana Antonio Sciortino. Il dibattito pubblico sulla trasmissione della memoria e sulle identità sociali sarà moderato dalla conduttrice Caterina Balivo. La versione cattolica dei Dieci Comandamenti, che differisce da quella ebraica, è basata su una tradizione che risale a Sant'Agostino. Secondo il presidente del Movimento, Salvatore Martinez, il decalogo rappresenta ancora oggi il codice etico imprescindibile della nostra società. Per ogni uomo, credente o non credente, un reato, non uccidere o non rubare. Si tratta, per esempio, in questo nostro tempo come diventare generosi nel tempo della crisi, quindi come dare se stessi, o se si tratta del non uccidere, come impegnare la propria vita intorno a degli ideali, intorno a ciò in cui si crede. Onorare il padre e la madre significa onorare le proprie tradizioni. E ci pare che collocare questo gesto proprio in piazza del plebiscito significa porsi anche in sintonia con la grande tradizione di civiltà culturale, spirituale, morale che Napoli rappresenta, soprattutto nel nostro sud Italia. La manifestazione, che ha il patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è partita a Roma l'8 settembre, con una riflessione sulla crisi della fede nell'uomo contemporaneo.